Ebbene è cambiata la formazione dei neurochirurghi in Italia e in Europa, ce lo spiega il dottor Alessandro Perin. Dottor Alessandro Perin, direttore scientifico del BEST Neurosim Center. Cos'è il BEST Neurosim Center? È un centro formato da noi neurochirurghi per permettere ai giovani specializzandi di diventare neurochirurghi a tutti gli effetti in sicurezza, senza quindi fare prove sui pazienti come di fatto è avvenuto in passato. Una verità scomoda, adesso non più eticamente accettabile. Vogliamo cambiare questo modo di formare, di educare e anche di selezionare i giovani che si vogliono avvicinare alla neurochirurgia. Lo facciamo con delle nuove tecnologie, con dei simulatori con realtà virtuale dotate di haptic feedback. Cosa vuol dire? La possibilità di toccare ad esempio un cervello, un tumore cerebrale virtuale come se fosse reale, quindi con le stesse sensazioni che si avrebbero in sala operatoria. Questo ovviamente permette di accelerare i tempi di formazione dei giovani neurochirurghi e di evitare di commettere errori legati all'inesperienza in sala operatoria. Avete appena concluso uno studio importante sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei neurochirurghi. Quindi come è cambiata questa professione che voi create anche con il BEST Neurosim Center? È uno studio che insieme al professor Di Mecca abbiamo voluto chiamare PASSION, proprio per sottolineare quanto sia importante in questa professione la passione, l'essere dedicati a anima e cuore e mente. È uno studio interessante, innovativo, multicentrico, internazionale. Per la prima volta abbiamo potuto dimostrare che questi sistemi di simulazione con realtà virtuale permettono di migliorare la performance per alcuni compiti neurochirurgici. Cosa vuol dire? Se un giovane neolaureato in medicina o neospecializzando fa degli esercizi, si addestra con questi simulatori, poi quando arriva il momento di ad esempio togliere un tumore cerebrale, rimuoverlo da un modello o in sala operatoria, questo specializzando è più bravo rispetto a un suo collega che non ha fatto questo tipo di formazione. Questo è un dato importante perché dimostrare che questi apparecchi non sono belli, non sono solo divertenti, affascinati da un punto di vista tecnologico, ma sono utili, è un passo importante per permetterne l'implementazione su larga scala. Si può dire quindi che l'innovazione tecnologica ha cambiato la professione del neurochirurgo? Direi che la sta cambiando. È un processo lento, non deve essere affrettato, anche perché deve essere accettato e condiviso da tutta la comunità scientifica, clinica, dei nostri colleghi. Quindi per questo vogliamo fare un passo alla volta del quale siamo sicuri per convincere tutti quanti di qualcosa che adesso magari è solo intuibile o non ancora del tutto dimostrato scientificamente. I vostri corsi di aggiornamento di formazione per neurochirurghi hanno iscritti da tutto il mondo, sono iscritti anche a livello europeo, sono riconosciuti a livello europeo, è così? È così. Ne abbiamo appena concluso uno settimana scorsa con il professor Di Meco, il professor Schaller, in collaborazione con l'Università di Ginevra e è la prima volta al mondo che un corso di questo tipo si è verificato. Perché? Perché è composto per metà di simulazione, quindi simulazione con questi sistemi computerizzati a Milano e per l'altra metà con prove ed esercizi su cadaveri. Due strumenti, due sistemi sempre più importanti per formare, per addestrare e per permettere ai giovani neurochirurghi di impratichirsi, di addestrarsi in sicurezza senza danneggiare i pazienti.